Per un parrucchiere, il taglio rappresenta un'abilità fondamentale nella costruzione del rapporto duratura e di fiducia con il proprio cliente. Dopo oltre 30 anni di esperienze in ambito professionale di formazione, la nostra attenzione è sempre rivolta sia allo sviluppo del contenuto che al processo di apprendimento, con l'obiettivo di trasferire abilità professionali che incrementino, la soddisfazione dei propri clienti, il grado di fidelizzazione, il margine di operatività del salone. La metodologia che presentiamo nasce con la volontà di offrire a professionisti strumenti di alto livello che permettono di incrementare le proprie abilità, crescere e aggiornarsi professionalmente. L'esperienza nel corso di taglio parrucchiere professionale si fonda essenzialmente su tre fasi. Apprendimento delle tecniche di analisi della forma, elaborazione di un progetto di taglio personalizzato, esperienza pratica. Nella prima fase, studio della forma, vengono apprese le abilità di raccolta dei dettagli nella forma del viso, utile elaborare la successiva strategia di taglio. La seconda fase, strategia di taglio, è dedicata all'apprendimento delle tecniche volte a ottimizzare il miglior risultato nel minor tempo. Nella terza fase, attitudinale, si applicano le competenze apprese per realizzare le sequenze pratiche. La gestione del tempo durante l'arco di tutta la formazione è organizzata per massimizzare l'esperienza pratica e l'apprendimento, per tornare a lavorare con un bagaglio tecnico aggiornato e migliore. Le competenze che vengono fornite al corso di taglio parrucchiere professionale permettono di operare con precisione e accuratezza, fornendo un servizio di alto livello qualitativo in linea con la tendenza moda più aggiornata.